cari amici di mille un'avventura un breve video per segnalarvi un gioco ma non è un gioco un programma che è stato pubblicato su steam di cui avevamo parlato tanto tempo fa in relazione al nostro amatissimo commodore 64 il programma su steam non riguarda il commodore 64 ma più o meno siamo lì infatti avevo visto su twitch non su twitch su che cosa su cosa l'avevo visto twitter su x da qualche parte avevo visto questo particolare giochetto in cui ci sono due palline una in campo in questo caso azzurrino e l'altra in campo nero che rimbalzano ognuno nei rispettivi campi e vanno a scavare delle buche nei rispettivi campi in questo video che vi linko qui sotto così potete andare a vedere di che si tratta e anche il programma per c64 che avevo scritto e che qualcuno si ricorderà perché di cinque mesi fa ormai questo video c'era tutto il programma appunto per realizzare questo tipo di effetto e l'avevo visto come dicevo su x su twitter visto che x non si riesce proprio a pronunciare ecco qui lo vedete andare molto più velocemente e si creano grazie a queste due palline che rimbalzano delle strutture particolari e ne avevamo un po' discusso le caratteristiche ora che cos'è successo fermiamo qui il video qualcuno si è dato la pena di pubblicare il gioco su steam e pubblicare giochi su steam non è assolutamente gratuito ecco adesso lo vedete un po' meglio bisogna spendere almeno 100 euro per pubblicare un gioco su steam quindi chi ha pensato questa cosa o che l'ha vista a sua volta su twitter ne ha creato un'implementazione su steam spendendo 100 euro 100 dollari per pubblicarla è gratuita se vi piace questo genere di cose per rimanere ipnotizzati sullo schermo sarebbe un bellissimo salvaschermo una volta c'erano ormai non esistono più però come salvaschermo sarebbe stato davvero interessante come vedete la pallina bianca si muove in campo nero e quando incontra i bordi della zona bianca li scava con questi quadrati molto più bello il mio per il commodore 64 devo ammettere e mentre la pallina nera si muove in campo bianco e scava gli quadratini neri si poteva fare qualcosa di più ma hanno semplicemente pensato a aumentare le velocità delle palline aggiungere palline nero bianche resettare tutto e poi un particolare effetto quindi niente di che non so perché abbiano speso tutti questi soldi per fare una cosa del genere ecco qui vedete l'effetto grafico un po più carino che si sono inventati le recensioni sono entusiastiche di questa cosa ci vuole niente a farla se volete pubblicarla anche voi sul steam magari c'è già anche su google play non ne ho idea potete farlo spendete soldi non credo che nessuno pagherà per avere questo gioco però si può giocare gratuitamente giustamente non lo hanno messo a pagamento perché non penso che molti si sarebbero messi a pagare si possono come abbiamo visto aumentare il numero di palline e poi basta le palline se si incontrano non credo rimbalzino no si attraversano aumentiamo anche le palline nere ed ecco qui ecco se volete divertirvi potete andare su steam con il vostro account e scaricarvi il gioco mi pare che sia solo per windows c'è anche il supporter pack vedo adesso aggiunge l'abilità di rendere i colori casuali quindi non più bianco e nero in young ping pong questo è il titolo in young ping pong vediamo se è gratuito vediamo se riesco a cambiare i colori non so perché dice che il pin non è corretto ho capito niente mi dice che il pin non è corretto e sono abbastanza perplesso visto che l'ho messo prima per caricare il gioco comunque c'è il pacchetto che vi permette di rendere i colori non più bianco e nero ma casuali non perdetelo a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e ci si rivede in un prossimo video in una prossima diretta guardatevi l'altro video perché è più bello ciao a tutti Milleuna avventura ci porta nel passato con storie di byte e pixel che non abbiamo autenticato senza dubbio ciò che amo Milleuna avventura il nostro mondo è al